Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori di messa in sicurezza presso il viadotto del Turbone al momento ci sono rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. Per altri lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. In A1 in direzione Roma, tratto chiuso per lavori fino alle 18 tra Rioveggio e Pian del Voglio in alternativa a usare la variante di Valico. Sempre verso Roma, possibili disagi per un incidente tra Valdichiana e Chiusi-Chianciano. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!